Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti qui a Salone di Francoforte 2019 Lì su c'è uno scalatore che ha appena appunto scalato una parete rocciosa nello stand di Jaguar Land Rover dove sta per essere presentata la nuova Defender Una presentazione veramente grandiosa non ne vedevo di simili da troppo tempo Geniale, semplicemente geniale Lì sugli schermi passano le immagini del nuovo Defender Purtroppo siamo lontani ma ovviamente iscrivendovi al nostro canale e attivando il campanello con le notifiche sarete capaci di restare aggiornati con i nostri upload e ovviamente se siete interessati al Land Rover Defender di vedere un video più da vicino focalizzato appunto sui dettagli del nuovo Land Rover Defender quindi iscrivetevi e date uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram in descrizione